Sono 13.17 e il 27 gennaio 2024, anziché fare il classico percorso, lo conduvo attraverso l'insolito sentiero, ma certamente questi agusti non c'erano, terreni abbandonati, quasi 50 anni fa erano ancora seminati, però in qualche modo il percorso è abbastanza agevole. Qua il vento, vedi, tutto da terra, con la nabba e un acciolo, Ginebra, Ginebri, sì, questi hanno tutti i terreni seminati, erano anche aperti lì, adesso no, soprattutto col rattore, prima si faceva con, sì, anche i bovini venivano usati, ma i guini, quindi a parola i guini perché uno sa erano muri cavalli asemi, qui era pieno di vegne, oltre alle vegne seminavano di tutto e di più, adesso invece non conviene seminare questi terreni perché abbiamo i fertili terreni di fucino, poi con la nuova meccanizzazione, pochi soldi, che produce molto, prima una pezza di pane si mangiano tutto, ma invece si soffre tutto di pressione alta, trigliceridi, colesterola, eccessivo peso, premano tutti magri, asciutti, come un'anghella, la fame, di stare la rascita molto.